stile vai barabin capitaneggi no che cazzo lo capitaneggiato vai 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 io sto a folle miglior posto neanche 20 27 che cosa vogliamo fare elicotteri ricognizioni ricognizioni a piedi un po di anale cosa volete fare no 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 capitaneggiati io sto a folle mi va bene qualunque cosa perchè sto nero e voglio divertirmi senza pensare a niente ma anche se stanno tre sciacalli là ma noi non andiamo lo sciacallo va bene clicchiamo guarda dire che parederemo 3 a 3 qui ho trovato un elicottero mi riuscala 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 si prendo pittoro stasera sushi si stanno tornando no stasera l'assassina buono dove mangia dici che stasera deve andare a fare il bignettino per favore si vede a me ha detto altro che bella ma che bigliettino il bigliettino il bigliettino 5 minuti aaa che lo sa ma che coro ma che brutta non riesco a 16 anni a 16 anni c'è un elicottero del cazzo qua eh ma ma quando sto chino desideri faccio la ricommissione due elicotteri ma c'è davvero è la showroom dell'elicotteri si rotti in culo ma merda è putride nooo eh Flavio venite con l'elicottero venite a aiutarmi ma sei caduto male eh come cazzo faccio ah non potete eh niente dai eh io sto vengo con la macchina aspetta aspetta proprio non è la tua giornata no quando nel giorno non ci arriverò mai Flavio voglio esser sincero io a piedi non c'è ci sto provando ma la vedo difficile eh da impossibile da 400 metri impossibile eh però Flavio per me l'ha fatta fatto un numero assurdo però merito almeno almeno ci devo provare niente cazzo voglio ti due dire che c'ho addio 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 se sopravvive tornerà in azione no comunque possiamo già restare comunque non ti preoccupare unjust e bone boh che di Eren no veramente è nero ma Eren com'è che ha 14.000 soldi ma mi ha trovati lungo ho trovato le case leggendarie ma non almeno un baio faccio debit tiene la capone eh la vivi la capone la capone ma quell'elicottero è mica il nostro quei due elicotteri che stanno accanto a ZZZ compagno a te Flavio ZZZ vai restalo se vuoi i miei carellini sono lontanissimi a me questo è più vicino ma stanno nemici eh e allora devo andarmene in culo proprio farlo in culo in culo devo andarmene qua potrei chiamare un uovi e cercare di capire chi sa il carrello raggiungete il punto indiato e potrete in sicurezza l'area l'obiettivo principale raggiunto però se Barabba solo se Barabba viene lui qua in modo che almeno riusciamo a fare tutto quello che dobbiamo fare ma non volete fare a prendere l'elicottero ruba di un acqua sono la ZZZ le ho viste eh no appena rianimato eccolo lo vedo sta cercando di salire sull'elicottero ma non ci riesce provo a affotterglielo eh davanti a te è Barabba è stato a terra non so l'altro che ha arrestato di nuovo chi è stato? no 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 vittoria vittoria rianimato compra l'equipaggiamento compra l'equipaggiamento vivi lo lancio eh nooo cazzo ce l'ho colpito ce l'ho tornando ce l'ho tornando ecco l'ecco da sopra da sopra ma ha fatto ma cazzo due a terra due a terra uno morto ho trovato un elicottero eccolo l'altro no cazzo è eliminato è eliminato è brava veloce veloce vengo io ok 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 bravi raga bravi tutti bombardamento di precisione anche io anche tu certo bravi tutti dai andiamo al complex equipaggiamento forza vado alla conquista io no 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 facciamo l'equipaggiamento ragazzi poi c'è 16500 dai forza lo prendo io lo prendo io la già preso la già preso la già preso va la già preso va prendetevi kit io ce l'ho la roba cassa di munizioni volete prendere ma la prendiamo se riesco allora questo l'ho preso prendete quello che volete evite ad andare vedete l'altro qui io prendo ragazzi che mi ha preso le mp5 come un ridà per favore se tu ce l'hai visto dammelo tu ce l'hai visto dammelo eh questa è la striker ecco lo striker scusami ah eh non lo sapevo raga vi lascio soldi spero che ne tenete ma credete quello che volete mi tengo 3000 per la maschera prendete i colpi dai prendo io i colpi cassa di munizioni presa droppata eh no no che è droppata è droppata è droppata Flavio hai detto prendi l'ho presa dove stai? eh a fare la riconizione eh vieni qua lascia tutto e vieni qua eh ma arrivo la finisco no perchè mosche chi ha la cassa scade qua e fa niente me li dati voi non ho trentina a testa eh cazzo la mi ha catata a fallor eh lascio tutti i colpi a terra dai ma ce li ho io te ne senti di ti lascia di a terra me li sono ricaricati guardi l'andavo oh qua c'è un'altra riconizione ragazzi si attivola attivola si ho trovato qui anzi vado io sto andando io sto andando io eh si sto arrivando c'è una macchinetta vicino a me arriva è vero è ancora ragazzo ragazzo no te l'ho fatta comunque morto morto bravo Flavio continuo a non fare una kill ma va bene oh chi è che ha rilessato qua ragazzi dove dietro noi la riconizione scusate mi stanno andando a prendere il doppio questa qua vicino eh prendo il cecco prendo il cecco bravo Flavio è vivino una cassa sola eh ok a pompa eh allora ne abbiamo fatte due e siamo andati molto bene vogliamo fare questa qua che è stata all'inizio non c'è la cacata nessuno così la soglia sto che te la vado ad attivare io sto so con te sull'elicoptero no 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 eh no Flav eh no se vogliamo andare là ti ti devo prendere giusto eh allora arrivo vai hanno pingato l'albero la anche se è quella al giorno vado eh potremmo comprare qualcosa carrellino io non saprei che altro prendere ho trovato a cassa di come si chiama di quella di quella la di protezione cassa di profilattici mamma mia cosa è l'elicottero l'ho quasi sfondato oh facciamolo va bene va bene vogliamo fare l'ultima one avete destinato ao no no ma sono false новa distruggire quelli di tope che cosa vogliamo fare di sono mai pai vai vai dai 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 occhio che mora arriviamo nel club potremmo anche pueblo abbiamo tutte le autoresse no io no siamo pieni di soldi amo spero no non evitiamo di morire ai soliti carrendini è il mio è il mio che esplode mi ci stavo buttando contro mi vedi te? Eren prendimi andiamo a piedi senti al chiuso vai nemici qua davanti a me dentro lo superstore arrivo dove tu? eccoli si li vedo li vedo quella direzione una terra eliminato la sopra sinistra no mi sta pushando mi sta pushando 1 ho confermato 1 eccolo 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 fallo 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 aiuto ragazzi aiuto uno contro due ci ho fatto questo dai ragazzi fatelo 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 e vincere questo scontro torni in prima linea se perdi merda fallo eren fallo fallo dai eren nonna aspetta un attimo madonna dai ragazzi dai ragazzi che le dico appena finisce sta partita fondamentale signor con il gulag che ha pareggiato un attimo motiva da rianimare zizio cazzo cazzo di protezione ci sono eh ci sono ci sono bombardamento di protezione io lo lancio arrivo 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 come dentro ok è buona c'è un sacco di loot perché l'hai lanciato come lo trovo io anche l'ho già passato perché quello in tirla ragazzi tutto capita l'hai lanciato a cazzo completo l'hai rianimato zizio? si ok io direi di andare a prenderci o qua o qua avvantando c'è un sacco di loot dentro in superstore no non posso troppo non posso prendere il mio hdr maledizione fanculo tivo bara rimi dei milita il mio mp5 gentilmente ah scusami no 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 so il telefono so il telefono non mi sto raviando io cazzo di protezione sei venita no ragazzi ma perché non mi fa prendere l'hdr ma è farà muoviti barra fa niente no nooo perso persona casa terra bravo scappa aeree ne salva tu che cazzo dio lupo di me guarda ma l'abbiamo finita almeno la ricognition si si ma dove sta scusami tu dici dove sta no sono tanti sono tantissimi sono un team vattene 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 a terra 1 vattene su un team a terra un altro l'ho messo ma fateli a terra un altro un'altra terra oh io metti tutti a terra bravo 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 aspetta che voglio un po ragazzi lasciatemi velocemente come riprendere le mie cose no è trattato quello è trattato pallo dove sta dove sta la roba per via di me resta dove sta fuori retta l'oretta lo che gg non può parlare cazzo cazzo ma fatto ma fatto ragazzi sta giusta giù sta giù sta giù sta giù si è chiuso in casa rassami se puoi no finiti colpi ragazzi restate veloce che mi riprenda la mia corsa bravi cazzo ragazzi una cosa veloce e va puoi togliere un attimo il volume dovevamo cinto venditore qui ma rabbi c'è uno dove è troppo pingato qua dove sto io arrivo c'è di tutto qua anche wab c'è di tutto c'è di tutto ha arrestato era il maio di ricamperiamo qua ragazzi primo piano e basta qua cioè siamo a top ma andiamo il tetto mi sembra pulito io non c'è l'equipaggiamento eh mi sa nessuno di fa niente fa niente fa niente ma dove ci sono le mie aria io mi ricomperi autoress eccetera e se vuoi te lo vado a comprare forse ho visto qualcuno qua eh attenzione mattinina mattinina se restassimo qua nel bagno no non so il fatto è che mi sa che non ci sta un piano superiore da qua no qua nel bagno qui guarda Zizi sta sul tetto ragazzi si pure il tetto non è male in arrivo zona sicura riposizionata vediamo dobbiamo stare attenti al tetto di superstorse stiamo sul tetto questo ci veda il tetto non è male però parlo il tetto non è male bravo Zizi si qua qua va benissimo come si fa da arrivare sul tetto? ci stanno le scale da questo lato qua potenzione marcata vado il problema è che stiamo senza equipaggiamento guagno ma da fuori bisogna salire c'ha ragione c'ha ragione no guagno andiamo a carellino dai c'ha ragione compiamo roba no 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 fermi qua fermi qua fermi qua ok ok io mi prendo l'equipaggiamento equipaggiamento equipaggiamento mi sarei preso perchè ci vedano tutti vabbè barrappa fa niente nella fe finale va bene dove cazzo è atterrato sto coglione? ah la io ho invece di caricare il suo ho fatto l'ho fatto ho fatto l'ho fatto ho fatto l'ho fatto ho fatto ho fatto ho fatto mi sa di no no c'è che ha rotto finestra eren no non c'è finestra era qualcuno giu guagno un altro si è catapultato sul a superstore un cecchino là sopra e attenzione guagno e attività nel stronzo in discesa nell'area occhio in alto sono dato nemiche in arrivo ok siamo alleati no bastardo io ho la cassa di corazza quindi se vuoi poi quando ne hai bisogno no vabbè no ce ne ho otto chi hai in te passi 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 eren ma vuoi salire che spiace eren vieni oh e vabbè ma là ci possono sparare al tetto gas in arrivo non ha sicurato che si è nata siamo qua dietro ehi che la facciamo si si la facciamo si si la facciamo ma facciamo una protezione no ho sbagliato la protezione è marcata vado dai mi dici ritiro tutto ma la tu e l'uab si eren tu cosa hai niente niente io ho un bombardamento non so zizu cosa attenzione alle scale ogni quest'anno oltre quella esatto dove sta mirando zizu anche perché ci sta il marmellone che arriverà stanno giù questi ne pingo due uno ci sono buttati ci sono buttati ci sono buttati la sei fumo piano piano era molto grande arriveranno tutti da noi vedrai quindi siamo nella fettima sappiamo già l'ultima era non ti far vedere da quella c'era un cerchino non c'è più la senza andate via le torri eccomi ragazzi scusate mi ha telefonato ad ogni modo volevo segnalarvi che c'era un cecchino arrivo vivi attacco a grappolo fatemi vedere da dove arriva state calmi state calmi state save non vi agitate dovremmo scattarci ma craccato flavio bisogno della cassa poi è ok finito l'attacco a grappolo tenete grazie sono arrestati questo da dove da dove da dove è che io c'ho l'attacco a grappolo e su di noi sotto di noi flana il palazzo sotto di noi stanno a pressione ※ 15※ fledgine II andiamo da ordu salute niente raga dobbiamo rimanere quaём a giocarcela fino all'ultimo Ma se io vedo qualcuno Col cecchino assolutamente Cecchino cecchino dobbiamo spaccarli Ragazzi sono 4-6 saranno 2-2 1-2-2 oppure 1 Ecco ecco uno sta qua dietro Aspetta che adesso lo faccio Un altro qua dietro Eh pingali pingali Eh zio te lo ho pingati zio Ragazzi dopo facciamo una mossa Separata due si lanciano E due rimangono sul tetto a coprire Sono qua i vici sono falliti Vai 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 Qua sera il primo Morto Nooo Che ovviamente non mi è stato segnalato Inutile dirlo No era nostro Ho sparato io volontariamente Ti sei tirato addosso il bombardamento Sì 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 Va bene Vabbè è un classico No perché ho cambiato Pensavo di aver cambiato arma Invece avevo fatto quel tappo di destra Ecco uno Sta uno qua dietro Oh è questo qua Su Pierino E' eliminato 3-6 ragazzi Uno sta qua dietro sicuro Ho visto prima Facciamoli uscire Approfittiamo che non siamo Buttali il bombardamento Aspetta Lo ha visto Eccolo lo vedi La è uno sicuro Fallo andare Fallo andare Tanto si dovrà muovere Uscirà da lì eh Comincio a scendere io raga Comincio ad anticipare Eccolo Buono Uno sotto Due sotto di me Due sotto di me Sotto di me Sotto sotto ragazzi Sotto di noi Sono sotto di noi Sotto di noi Dietro il palazzo Dietro di voi Dietro di voi Dai Bravi Peccato essere morto Che bombardamento Dai Bravi raga Ma che partita porca puttana Quello che ho visto Che peccato Invece di sparare Senza equipaggiamento Vorrei sottolineare Quindi emozioni Bombardamento di precisione addosso By Flavio Io ho fatto ultimo a sta partita Sono riuscito a fare ultimo No Bene bene Mamma mia Bravi ragazzi Bravi tutti Bravi tutti Hai capito? Hai capito? Tre kill Oh io me ne ho killito Finalmente Finalmente